Io credo che esistano molti modi di fare filosofia. Quello che sto per dire probabilmente agli orecchi di voi terrestri potrà sembrare un po' strano. Come sapete io sono un marziano. Ma io penso che il miglior modo di fare filosofia sia quello di fare quella filosofia che insegna a volere bene. Cioè immagino che magari qualcuno di voi avrà avuto qualche professoressa di filosofia che era pazza e quindi vi domandate ma come facevo una cosia a insegnare a volere bene? Magari qualcun altro ha avuto un insegnante crudele che si divertiva a torturare gli alunni che voleva tutte le cose a memoria dal libro. Quello che vi dico vi sembra proprio fuori dal mondo. Mi dispiace sinceramente che abbiate fatto questa esperienza di filosofia. Ma la filosofia ha a che fare con l'amore. Sì l'amore per il sapere mi direte voi. Filosofia significa questo. Ma no. Di più. Cioè dipende voi, nella vostra testa, come vi rappresentate questo sapere. Perché se vi immaginate questo sapere come un grande magazzino pieno di informazioni, la domanda che vi faccio è ma a che serve? A che serve avere tante informazioni, tante conoscenze, un sapere così? Per far fare il biglietto alla gente e far vedere quante cose sai? Può mai essere questo l'amore per il sapere? Ma se la filosofia la prima cosa che insegna è proprio essere umili, Socrate, so di non sapere, cioè vuol dire non ho la verità in tasca. Cerchiamo insieme di capire come stanno le cose. E nel fare questo c'è un sacco di amore. Il cercare qualcosa che non hai, il metterti in ascolto, il voler capire, il ragionare insieme agli altri, il costruire e combattere per un mondo migliore. Cercare in tutti i modi di capire che cosa è il bene e fare di tutto per raggiungerlo. E per farlo raggiungere anche agli altri. La filosofia non è un amore per il sapere, inteso come un museo. La filosofia è l'amore per il sapere che ti aiuta a vivere, a campare. Proprio come diciamo su Marte. Campare. Visto? Detto. A capire, ad aver cura, ad affezionarti, a dedicarti a una missione con tutte le tue energie e a fare questo nel miglior modo possibile. Quindi è per questo che la filosofia dona degli strumenti molto importanti a chi le si dedica. Sono tutte cose che possono aiutare una società a guidarla nel suo destino. Qualsiasi esso sia. Ora, non tutti vorranno dedicarsi alla filosofia. E va bene, va bene così. Però chi vuole dedicarsi alla filosofia deve sapere che c'è l'opportunità di farlo. E che cosa può offrire questa filosofia. Lei deve sapere che se lo farà, troverà un sacco di risorse, di strumenti, di intuizioni che potranno aiutarlo o aiutarla. Alcuni sono scettici. Alcuni non capiscono a cosa serve questa filosofia. Nel tal caso, perdonate la autopromozione, però vi rimanderei al mio video a cosa serve la filosofia in 5 minuti. Giusto per farvi un'idea. Ne ho fatti tanti ultimamente di video così, brevi, in pochi minuti. Però per una volta mi sono detto, ma dai, diamoci un po' a un discorso un po' più lungo in generale. Parliamo un po' a ruota libera. Semilibera, più o meno. Che bella cosa, eh? La filosofia. Il filosofare insieme. E non farlo semplicemente per esplorare il mondo delle idee, ma per arricchirsi dal confronto. E trovare strumenti per leggere e comprendere la realtà. Per diventare più forti ed efficaci anche in quello che facciamo. Nella vita non nego che servano anche le batoste. Le esperienze dolorose per apprendere qualcosa. Ma ritengo che noi marziani, come voi terresti, per il fatto che siamo dotati di autocoscienza, possiamo procedere molto più velocemente. E anche con meno sofferenza. Grazie alla filosofia. Voi ormai mi seguite, sapete che questo canale si chiama The Philosophy on Mars. Perché vengo da Marte? Perché sono un marziano e voglio aiutarvi. E voglio farvi capire delle cose. Io non sono umano, questo è vero. Ma nelle mie esperienze intergalatiche ho conosciuto molti esseri vegetali, animali e noi li chiamiamo autocoscienti. Ora, noi pensiamo che ci sia continuità tra tutti questi. Non è che ci siano dei compartimenti stagno. Ma che a un certo punto, in alcuni esseri viventi, quando emerge l'autocoscienza, è un po' come quando escono le bolle nell'acqua che raggiunge una determinata temperatura critica. Potendo riflettere su di noi, possiamo modificarci. E modificare i nostri comportamenti e quello che siamo in realtà. Il poter riflettere su se stessi permette di poter comprendere le cose, di apprenderle, anche di modificare i propri comportamenti molto più velocemente. E anche con un notevole risparmio di sofferenza. Non pensiate che una pianta sia statica e che non cresca. O che non cambi. Anche le piante apprendono. Ma poiché le manca la possibilità di riflettere su se stessa, consapevolmente, beh, si modifica, ma molto più lentamente, di generazione in generazione in generazione in generazione. Quello che sto cercando di dirvi è che noi, noi marziani, e voi terrestri, grazie a questa consapevolezza, siamo immensamente più liberi. ed è proprio qui che entra in gioco la filosofia. Ah, terrestri, sapeste come sarebbe migliore il mondo? Se vi dedicassi un po' più tempo e un po' meglio alla filosofia. A voi non serve per forza la filosofia marziana. Già quella terrestre vi basterebbe. Cioè, voi ora vi state facendo la guerra. La guerra. Con tutti i problemi che avete, pure la guerra vi state messi a fare. Marco Aurelio, antico imperatore romano vissuto intorno al secondo secolo dopo Cristo, concepiva tutta l'umanità come un unico grande organismo, un unico grande corpo, dove se c'era una parte che attaccava un'altra parte voleva dire che c'era una malattia che andava curata e sistemata. Imperatore filosofo del secondo secolo dopo Cristo. E voi state ancora là a far via guerra. Ma com'è possibile che al di là del vostro essere russi, ucraini, europei, americani, africani, australiani, non vi accorreggete che siete tutti quanti umani. Tutti quanti terrestri. Terrestri. Accidenti se vi serve la buona filosofia. Indosi massicce. Dovete ragionare di più sulle cose. Certo, Eraclito diceva che dalla guerra, dallo scontro, si generano tutte quante le cose. Polemos. La guerra è il padre di tutte le cose, diceva Eraclito. Questo è vero, è imprescindibile. Ok, ma c'è un modo di favorire questo cambiamento che non dovrebbe essere più consentito per essere autocoscienti. E questo è proprio farsi la guerra. Tanto non vi preoccupate. Tanto comunque ci sarà qualcosa da combattere. Il cambiamento climatico, la vostra pigrizia, un'invasione aliena. I problemi non mancano mai. Ma riflettere sulle cose permette di orientarsi e magari di fare del male il meno e del bene in più. Vedete, io credo che la filosofia sia come un mezzo di trasporto. Ci sono tante filosofie e anche tanti mezzi di trasporto. C'è però una bella differenza nel percorrere una distanza in macchina, in bicicletta, col triciclo, con l'aereo, con l'autobus, col taxi oppure con la motocicletta. Con l'autobus magari non devi preoccuparti di guidare tu, però devi stare a quelle che sono le fermate stabilite. E non è detto che possa arrivare ovunque tu voglia arrivare. Col taxi già hai un potere in più di scegliere dove andare, però devi fidarti di chi è che sta guidando e sperare che non ti freghi facendoti fare un giro più lungo da necessario. Se invece guidi da solo c'è il fatto che puoi sbagliare, però almeno è più autonomia. Sono tutte alternative possibili, ma ognuna porta a vantaggi e a svantaggi differenti. Però questa non è una cosa di poco conto, perché in base al mezzo di trasporto che utilizzate cambia il modo in cui vi approcciate problemi, come riflettete sulle cose. E se non vi accorgete di questo, può darsi che in realtà è come se seste sull'autobus del senso comune da una vita e non avendolo mai messo in discussione, non ve ne siete mai accorti. Io non credo che questo sia un bene. Vedete, io ho un sogno. Sì, un piccolo sogno marziano. Sono sicuro che la giusta filosofia è non la filosofia studiata come si fa sui libri o alle università, ma la filosofia vissuta possa aiutare la vita delle persone e migliorarla. Perché la filosofia aiuta le persone a mettersi in discussione, a darsi da fare per migliorare le cose e a coltivare la curiosità e la comprensione. È per questo che se devo pensare a una community per questo canale YouTube, io vorrei una community fatta così, di persone orientate alla comprensione. Sì, lo so che è difficile trovare questo tipo di persone e soprattutto che è difficile esserlo. Perché mettersi in discussione, non avere mai la verità in tasca, dover anche fare delle rinunce, cercare di capire, di trovare un modo per trovare delle soluzioni che vado bene a te e alle altre persone, non è facile. Ma io so che esistono persone così. Sono fortunato perché tante persone guardano i miei video e so che non tutte saranno così. Però che alcune tra queste ci siano, io non lo metto in dubbio. Saranno poche, ma ci sono quelle che già sono così e quelle che vorrebbero essere così. E quindi io vorrei dare a queste persone l'occasione di entrare in contatto tra loro. È per questo che ho creato un gruppo segreto su Telegram che non è linkato a nessun'altra parte di questo canale YouTube. Sono in alcuni video altamente selezionati. Negli ultimi mesi ho pubblicato diversi video molto brevi e nessuno di questi trovate link a questo gruppo Telegram. Ma soprattutto, se adesso andate a leggere nella descrizione e non trovate gruppo Telegram segreto, allora vorreste domandarvi perché? Beh, per fare selezione e dire soltanto a chi arriva a questo punto come accedere al gruppo segreto. Se infatti volete unirvi a questo gruppo, nella descrizione non troverete gruppo Telegram, ma una scritta e un link a suo fianco. La scritta dice Please don't tell. Mi hanno detto in realtà che alcuni hanno avuto difficoltà ad accedere al gruppo tramite quel link. Non tutti. però alcuni sì. Quindi vi lascio qui il mio contatto Telegram personale da contattare in caso vogliate essere aggiunti o aggiunte a questo gruppo. E poi vi ci faccio entrare io. Io spero di rivolgermi a persone che hanno voglia di capire, che sanno che le cose non sono facili e che hanno voglia di usare la testa. Persone a cui non basta seguire le istruzioni, ma che vogliono costruire qualcosa di migliore per se stesse e per gli altri. Per me questo vuol dire fare filosofia che insegna a volere bene. Volere bene della propria comunità, della propria cerchia di amici, della propria famiglia, di se stessi. Secondo me questa filosofia porta a costruire una comunità fatta di responsabilità, di libertà, di attenzioni. E so che molti, visto che è così difficile, ci rinunciano a priori. Preferiscono non provarci nemmeno. Ma se tu, 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 vuoi sfidare la sorte e darti da fare in questo senso, sali a bordo con me. Vi ricordo che il senso della mia missione sulla Terra è quella di aiutare l'umanità a salvarsi dall'autodistruzione. E credo che i fatti di questi giorni si stiano dimostrando quanto ne abbiamo disperatamente bisogno. Quindi che cosa si impara studiando filosofia? Si impara tanto un mondo di cose a essere umili, autocoscienti, riflessivi e costruttivi. Tutte quelle qualità che servono per voler bene se stessi e la propria comunità. Se vi interessano questi temi, ne parleremo ancora su questo canale The Philosophy of Mars. Dalla mia base marziana sulla Terra per ora è tutto. Grazie sempre di seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!